Dobbiamo ringraziare veramente i nostri tre cori, il coro Jubilate, il coro Estoteforte, segli attivi della scuola di Europa, per questi momenti belli che ci hanno fatto passare. Abbiamo avuto anche questa bella rappresentazione di Natale e abbiamo avuto anche un angioletto molto coerente con se stesso, perché a Betlemme, che vuol dire casa del pane, voleva un pane, quindi ringraziamo tutti, ringraziamo tutti i cantori e ringraziamo anche a tutti voi che siete venuti ad ascoltare questi canti questa sera e dici canti così belli che ci hanno fatto entrare più profondamente nel mistero di Maria e del Natale. Grazie, grazie. 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 Grazie.